Buongiorno ragazze, eccomi tornata con un nuovo video, con una nuova morning routine aggiornata all'ultimo periodo. So che vi piace molto questa tipologia di video, quindi sono molto ma molto contenta di registrarlo. Comunque, tornando a noi, ovviamente la prima cosa che faccio tutte le mattine è quella di svegliarmi, di alzarmi dal letto e questa mattina ero molto 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 contenta, anche se non si direbbe dalla mia faccia, perché quando mi sono svegliata e ho guardato fuori dalla finestra ho visto che c'era una splendida giornata di sole e questa cosa mi rallegra sempre la giornata, mi fa svegliare con il sorriso. Prima di alzarmi dal letto però, dedico qualche minuto, una decina di minuti al telefono, al cellulare, insomma sto un attimo sui social, mando il buongiorno a ste che lui sta già lavorando da un paio d'ore, questa mattina non lavoravo, o meglio lavoravo la sera e quindi ho dormito un pochettino di più, poi finalmente decido di alzarmi e vado in bagno a lavarmi la faccia, così mi sveglio completamente. In questi ultimi mesi sto utilizzando questo detergente della Roidermal della collezione Idrati, questo è un detergente indicato per pelli sensibili e per pelli secche, va a detergere e idratare il viso in una sola passata, lasciando la pelle molto pulita, sana e luminosa. Devo dire che mi sta piacendo molto e come potete vedere fa anche parecchia schiuma, infatti mi capita di utilizzarlo anche con la spazzola elettrica per pulire il viso. Dopo essermi lavata il viso vado a fare colazione e in questo periodo sto bevendo il Ciocodream di Natural Mojo, che è un superfood 100% naturale, realizzato con ingredienti come il cacao in polvere, il latte di cocco, gli estratti di fico, la polvere di mirtilli, insomma ingredienti 100% naturali che fanno bene, però il Ciocodream, il bello di Ciocodream è che sembra di bere una cioccolata calda però senza sentirsi in colpa proprio perché non fa male. E vado ad aggiungere semplicemente un cucchiaino di miscela in 200 ml di latte scremato, volendo potete utilizzare anche l'acqua però io preferisco il latte perché mi dà di più la sensazione di cioccolata calda. E poi vado semplicemente a frullare il tutto nel frullatore, perché mi sono accorta che se non vado a frullare si sente sul palato la polverina e non è una bella sensazione, quindi se vi capita di provare questi prodotti vi consiglio assolutamente di andare a frullare il tutto nel mixer. E poi vado un paio di minuti a scaldare il latte sul fuoco, volendo potete berlo anche freddo però in questo periodo preferisco ancora il latte caldo e poi vado a versarlo in questa magnifica tazza di Mr. Wonderful, se puoi sognarlo puoi farlo. Tra l'altro sapete la mia fissa per le tazze, faccio collezione e questa è bellissima. E poi quando un attimo più di tempo, come in questo caso, mi piace rilassarmi sul divano e fare colazione con calma, magari guardando un po' di tv o stando anche sui social, dipenda da come mi gira, magari guardo anche un video su YouTube. E poi abbino il Choco Dream a quattro campagnole, sì, a quattro campagnole questi biscotti sono buonissimi, mi piacciono un sacco. Cosa c'è di meglio di stare spaparanzata sul divano con calma, fare colazione senza nessuno che ci rompa le scatole, bevendo anche una cioccolata calda che non fa assolutamente male, che non fa ingrassare, senza sentirmi quindi in colpa, fantastico. Tra l'altro se volete provare i prodotti di Natura El Mojo, vi lascio lo sconto scritto qua da qualche parte del 20%. E dopo torno in bagno a mettermi tutte le mie cremine e cremette e parto dal contorno occhi, utilizzo questo gel defaticante della Roidermal, sempre della collezione Idrati. Questo in realtà è indicato per la sera, infatti lo applico tutte le sere, ma ogni tanto mi capita di utilizzarlo anche la mattina, vado semplicemente ad applicarlo sul contorno occhi delicatamente e vado a massaggiare leggermente. Poi vado ad utilizzare questo siro realizzato con acido ialuronico e altri sette diversi estratti di alghe. Non solo rende la pelle meno secca, ma dona anche più elasticità. Questo siro lo utilizzo sia la mattina che la sera. E come ultimo step vado ad applicare questa crema giorno della Roidermal. Questa è una crema multirigenerante, idratante, però dona anche più luminosità e levigatezza alla pelle. Mi ci sto trovando veramente molto bene e la sto applicando tutte le mattine, ormai da un mesetto e mezzo. E dopo, ovviamente, dopo aver fatto colazione, mi lavo i denti e poi vado ad applicare questo burro cacao di Puro Bio che mi sta piacendo molto. Questo in particolare è burro cacao rivitalizzante e lo vado semplicemente a picchettare sulle labbra. Passo al make-up, vado a mettere semplicemente un po' di fondotinta. Questo è un nuovo fondotinta Cushion coreano che mi è arrivato recentemente. È un fondotinta luminoso, mi sta piacendo molto. Vado semplicemente poi a mettere un po' di cipria per fissare il trucco e un po' di mascara e poi sono a posto. Poi passo al tapirulano, è una cosa che sto facendo da un po' di tempo. Ho riscoperto il tapirulano perché l'avevo acquistato e poi non lo stavo più utilizzando. In questo ultimo periodo invece mi sono decisa a iniziare a fare un po' di attività fisica. Prima di fare tapirulano vado a preparare il fit chocolate sempre di natural mojo, sempre realizzato con ingredienti naturali come ad esempio il tè verde, il cacao, la papaya, il cocco, il melograno e vado ad aggiungere due misurini di fit chocolate di miscela in 250 ml di latte scremato. Mi raccomando utilizzate latte scremato che è molto ma molto più leggero rispetto al latte parazialmente scremato o al latte intero. In realtà sulla confezione c'è scritto di utilizzare 5 misurini per sostituire fino a due pasti, però a me non piace sostituire il pasto, però mi piace integrarlo durante la mia giornata. Quindi anziché utilizzare 5 misurini ne utilizzo soltanto due, sempre nella stessa quantità di latte, quindi 250 ml, però devo dire che sento comunque il mio stomaco molto più pieno quando utilizzo questo superfood. Un consiglio che vi do è quello di, come ho fatto per il ciocodrime, di miscelarlo nel frullatore perché altrimenti si sente la polverina e poi di berlo subito perché se lo lasciate lì tende ad appesantirsi, ad addensarsi e poi è molto più difficile da bere, quindi lo preparo e cerco di berlo il più velocemente possibile. Sa comunque di cioccolato, il gusto è buono, però mi raccomando frullatelo. Poi vado a fare tapiroulin, parto appunto con una camminata abbastanza veloce, poi faccio una corsettina negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, mi sto piano piano riabituando insomma all'allenamento perché il mio corpo era fermo da un po'. Cerco di berlo tutti i giorni ma sono sincera, non sempre mi ricordo di prepararlo e di berlo, però è un prodotto, è un superfood che mi piace proprio perché, anche se non assumo la dose consigliata, la dose scritta sulla confezione, mi sento comunque piena. È un superfood che riempie e quindi quando poi devo andare a pranzare o a cenare non sento più la necessità di mangiare tanto proprio perché questo superfood mi ha riempito in precedenza, quindi mangio meno durante il pranzo e la cena. Quindi vi ricordo che se volete provare questi prodotti trovate il codice sconto del 20% sia nell'info box che qua da qualche parte. Questo video è stato realizzato in collaborazione con Natural Mojo, ma nonostante questo le mie opinioni sono veramente del tutto personali, infatti ho voluto provare con calma questi prodotti prima di recensirli. Io niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao!